so più tranquille loro di pulcini vedi non scappano ho già fatto un sacco di foto e di video mi sa che dovevamo via 16 papere e 4 sto scherzando che te mangi che te mangi io mangio all'erbetta e io fa bene mimo stanno tutti qua tranne le mare e mani a quanto gli piace l'acqua a basso l'olio fatto bene a portarle Chrissi l'olio 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 ehi tornate qua ragazzi Sì Mimo Che si dice